Merita Business Podcast, puntata numero 41. Le conseguenze sono negative sul lato della produttività, per un verso, e dell'impoverimento delle relazioni dall'altro, che vale sia per le relazioni personali, familiari, legate al nostro tempo libero, ma vale anche, come hai detto tu poco fa, per le relazioni di carattere professionale. Benvenuti, 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 io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast, il podcast in cui scopriamo come usare internet per far crescere il nostro business. Vuoi ottenere un buon posizionamento sui motori di ricerca e mantenerlo nel tempo? Allora hai bisogno di un SEO Audit. Un SEO Audit è la prima attività da fare per chi vuole continuare a far crescere il proprio business grazie al web. Vai su merita.biz barra SEO Audit per iniziare a migliorare già da oggi. Eccoci qua, io sono Giorgio Minguzzi e oggi sono particolarmente felice perché affronteremo un argomento che riguarda tantissimi ascoltatori del podcast, me incluso. Oggi infatti parleremo di equilibrio digitale, di dipendenza dal cellulare e dalle email, e di come poter dominare la tecnologia perché questa non ci porti a rovinare le relazioni e la nostra produttività. È per questo che mi fa piacere avere oggi come ospite di questa puntata Luca Conti, con cui cercheremo bene di capire come riprendere il controllo. Per chi non conoscesse Luca Conti, Luca si definisce un animale ibrido, svolge infatti formazione e consulenza nel marketing digitale, ma ha anche scritto 12 libri di web marketing per la Epli Editore. Cura la collana Web Marketing 2.0 e collabora come freelance con varie testate, tra cui star bene sul tema proprio della salute digitale. A questo punto non ci resta che dire, Luca, benvenuto su Merita. Ciao Giorgio, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao, grazie a te per essere qui. Cosa si intende per Digital Detox? O se preferisci, equilibrio digitale, se vogliamo parlare in italiano magari in maniera più semplice, magari un pochino più ampia. Guarda, è un tema sempre più di attualità, soprattutto nel mondo anglosassone che vive questo argomento da più tempo, perché come sai la tecnologia è più pervasiva rispetto al nostro paese. In pratica si tratta del fenomeno per cui alcune persone hanno capito che hanno bisogno in qualche modo di disintossicarsi dalla tecnologia, magari prendendosi un weekend lasciando lo smartphone nel cassetto, addirittura andando in un resort dove il telefonino gli viene requisito all'ingresso e gli viene restituito soltanto al termine della vacanza. Io uso di proposito il termine equilibrio digitale e non il Digital Detox perché non si tratta, a mio avviso, di fare a meno della tecnologia o di separarsene per star bene, ma si tratta di trovare un equilibrio e far sì che quando usiamo lo smartphone, quando siamo collegati con il computer, quando siamo collegati a internet, non ci distraiamo, raggiungiamo gli obiettivi che vogliamo raggiungere, che possono essere anche obiettivi di carattere ludico o relazionale, ma non ci facciamo prendere da distrazioni che fanno sì che alla fine della giornata non sappiamo esattamente cosa abbiamo combinato. No, questo è verissimo, anche perché noi siamo continuamente davanti a persone che sono disconnesse, come possiamo dire, cioè che guardano in continuazione il cellulare, sono sconnesse dal parlare con te che sei lì davanti a loro, sono continuamente interrotte in quello che fanno, in quello che dicono, perché suona una chiamata, suona un messaggio, suona una whatsapp, eccetera, e sono sempre assorti a guardare queste cose. Di tutti i livelli, top manager, manager di basso, qualsiasi persona è lì, lo dico un po' per fare un mea culpa, perché anch'io sono di bruttissima e pochissima compagnia quando sono a tavola che spistolo sempre col cellulare, ma esistono diversi tipi di dipendenza digitale oppure è una questione legata solo al cellulare? Guarda, credo che la dipendenza in senso stretto sia relativamente poco comune e quindi l'aspetto patologico credo non sia esattamente il tema più interessante. Il tema più interessante è quello della dipendenza vista come un'attività che non siamo in grado di controllare, ma non che arriva a non farci mangiare o a non farci dormire. Quindi in questo senso è legata a tutti quelli che appassionati dello strumento, che possono essere anche mia madre, che scopre whatsapp un anno fa. A un certo punto non sono in grado più di controllarlo, perché appunto, come dicevi tu, c'è la notifica che ti distrae mentre stai facendo qualcos'altro, mentre stai parlando con qualcuno quando sei al ristorante e quindi sei tentato di rispondere subito o comunque stai lavorando a scrivere un documento, ti arriva la notifica di una nuova email, sei tentato di andare a vedere che cos'è e pochi sanno che in realtà prima di ritornare a un livello di attenzione che avevamo prima dell'interruzione passano diversi minuti. Quindi tutte queste notifiche incontrollate ci fanno in realtà perdere un sacco di tempo perché ritornare al livello di produttività precedente richiede energia che non abbiamo più. Certo, certo. Quindi ci sono delle conseguenze da questo tipo di dipendenze. Mi viene da dire, sicuramente aumenta quello che tutti chiamano stress, alla fine sembra un po' un deus ex machina, cioè tutto è stress, tutto mi stressa di più, sicuramente tutte queste notifiche stressano tantissimo. Ma anche la produttività ha un calo. Io parlo per esperienza lato venditore. Un venditore che mentre parla col cliente in continuazione guarda il cellulare, è un venditore che venderà sicuramente molto meno di chi riesce a concentrarsi, a guardare in faccia il suo interlocutore. Ora, ci sono dei tipi di conseguenze diversi da questi? Abbiamo centrato il bersaglio. Che cosa ci puoi dire rispetto alle conseguenze che si hanno dal trascurare questo tipo di dipendenza? Guarda, hai centrato esattamente il punto perché le conseguenze sono negative sul lato della produttività e per un verso e dell'impoverimento delle relazioni dall'altro che vale sia per le relazioni personali, familiari, legate al nostro tempo libero ma vale anche, come hai detto tu poco fa, per le relazioni di carattere professionale. Se io sto parlando con te perché ti sto facendo una proposta e mi arriva una notifica e io, mentre parlo a te e tu mi stai guardando, guardo lo schermo del cellulare e magari ti parlo e rispondo al messaggio contemporaneamente, non faccio sicuramente una bella figura da un lato e dall'altro non ho, per quanto posso non rendermene conto, non ho la stessa attenzione che avrei guardandoti e concentrandomi al massimo su quello che stai dicendo e quello che io sto dicendo a te. Quindi questo ha delle conseguenze, delle conseguenze di cui non ci rendiamo conto ma che poi alla fine della giornata sono misurabili e tangibili. Quella sensazione che molte persone hanno alla fine di una giornata in cui dicono oh cavolo, sono alle 5 e quella cosa importante che dovevo fare oggi non l'ho ancora fatta e la faccio adesso perché sono arrivato in ufficio la prima cosa che ho fatto ho controllato l'email quindi ho visto quella cosa, ho risposto a quella persona poi ho ricevuto quella telefonata mi hanno chiamato nella riunione questa è la bella notizia che ti do e che do agli ascoltatori è che qualcosa si può fare per migliorarsi e ridurre questo rischio. Ecco, un amico citando le cose belle della vita e tra queste sicuramente c'è anche la tecnologia anche se lui parlava di sigari, di vino, di grappe e di donne lì mi diceva ogni cosa bella nella vita ha bisogno di dominio di sé se no ti distrugge, no? Ecco, quindi anche su questo aspetto della tecnologia è verissimo calza, calza, pennello o mi sbaglio? Ma è assolutamente, è assolutamente vero la difficoltà in questo ambito è che il nostro smartphone e internet adesso noi ce l'abbiamo sempre in tasca con noi per cui se fino a ieri il nostro computer stava comunque nell'ufficio magari era portatile ce lo portavamo anche a letto cosa che io ho capito subito che non era una buona cosa già anni fa ma diciamo avevamo confinato le attività lavorative in un certo ambito oggi questo non lo possiamo fare nel senso no perché non lo potremmo fare ma non avrebbe senso farlo visto i vantaggi che abbiamo ad avere uno smartphone e internet in tasca questo però significa che la tentazione ce l'abbiamo sempre con noi e quindi è come è come una persona che ha deciso di smettere di fumare che per ragioni indipendenti dalla sua volontà deve comunque girare sempre con un pacchetto di sigarette in tasca quindi la forza di volontà necessaria e l'applicazione per resistere alla tentazione è comunque difficile quindi ci vuole un certo un certo equilibrio ci vuole anche un modo di di regolarsi e di riuscire a controllarsi se vuoi ah certo io posso citarti questo episodio personale io lavoravo in un'azienda IT e avevo un ruolo che era molto a contatto con i clienti i clienti erano tanti chiamavano per le cose più disparate e il mio cellulare si scaricava veramente in mezza giornata mi ricordo che io avevo dei nocchi avevo le batterie da rimettere dentro perché ero in continuazione al telefono cambiato lavoro il cellulare chiaramente avevo un altro numero e nessuno chiamava più io ricordo che guardavo in continuazione il cellulare e anzi nella mia testa si materializzavano delle chiamate che non erano reali perché nessuno conosceva il mio nuovo numero aveva appena iniziato e io mi ritrovavo a guardare in continuazione un telefono che era lì fermo a fare il telefono e basta convinto oddio sta chiamando oddio perché non mi chiama nessuno era diventato veramente un silenzio insopportabile e bisognava cambiare un po' un'abitudine mi sono reso conto che era arrivato un po' a essere anche un bel po' ridicolo ora guardavo sempre in continuazione il cellulare e quando bisogna però cambiare questa abitudine qui le cose sono facili a dirsi ma difficili a farsi perché è una gran fatica hai qualche suggerimento per farcene fare un po' meno? guarda quello che dici è vero molte delle cose che ti dico le affermo perché le ho vissute anch'io sulla mia pelle visto che lavoro su internet ormai da quasi 15 anni un po' per passione e un po' per lavoro siamo tossici digitali non ho capito scusa siamo tossici digitali praticamente parliamo come quelli che una volta si facevano così in questo senso io mi potrei definire un ex un digitalista anonimo non so presto troveremo una definizione e ci saranno anche dei club in cui ci comporteremo e cercheremo di affrontare i problemi come lo fanno gli alcolisti anonimi ma al di là al di là delle battute guarda a me piace quando posso consigliare sempre degli approfondimenti sotto forma di libro e c'è un bellissimo libro che si chiama tradotto in italiano la dittatura delle abitudini ed è un libro che spiega esattamente il meccanismo con cui si formano le abitudini e il meccanismo con cui possono essere cambiate quindi il consiglio che posso dare è quello per esempio di prima cosa rendersi conto di un'abitudine che abbiamo e del momento in cui lo facciamo e del perché e dall'altra sostituirla con un'altra attività quindi un po' come per quanto io non abbia mai fumato e continui a non fumare e a invitare le persone a smettere di fumare spesso si dice che chi smette di fumare poi cerca di prendere un'altra abitudine tenendosi qualcosa in bocca al posto della sigaretta o finendo per mangiare di più o diciamo cercare di sostituire quel bisogno con un'altra dipendenza magari meno 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 torsica ti faccio un esempio tanto per capire io da qualche anno ho deciso di non usare il telefonino a letto per cui lo usavo come sveglia e a un certo punto sono passato a uno smartwatch che vibra e quindi posso vedere l'ora e quindi non ho più bisogno di tenere il telefonino sul comodino e lo tengo a ricaricare in un'altra stanza quindi non sono tentato né di controllarlo prima di andare a letto né di controllarlo appena sveglio la cosa però che ho cominciato a fare tempo fa era vado in bagno e prendo il telefonino e guardo le notizie quando sono in bagno ore 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 di prima mattina anche uno dice così ti vanno via 20 minuti che invece la mattina secondo me almeno per me è un momento topico per prendere subito delle vittorie e cominciare la giornata in modo giusto quindi che cosa ho fatto mi sono reso conto di questo e ho sostituito il telefonino con un libro quindi in bagno ho un libro e se proprio ho quel bisogno lo prendo il libro in mano poi alla fine passano pochi minuti e ritorno a fare quello che facevo quindi con il libro non ho il problema che avevo con il telefonino che poi leggi una notizia ne trovi un'altra perdi il controllo di quanto tempo passa e ti va via 20 minuti non ti sei reso conto con il libro ho finita la mia funzione ritorno a fare colazione e abbiamo risolto il problema questo è un ottimo consiglio questo è un ottimo consiglio perché se no si tende a scadere nel moralismo cioè io vedo certi locali qui da noi che hanno quegli adesivi chiudi il telefonino parla con quello davanti in questo locale che sono un po' fastidiosi perché poi alla fine sembra quasi che ti debbano insegnare a vivere gli altri è veramente molto sgradevole oppure ci sono il caso opposto i campi di rieducazione cinesi dove alla fine ti mandano a essere rieducato nell'aogai di turno quello per i malati digitali prima però hai citato una cosa che a me ha colpito molto perché è un po' una questione che sento mia come mia problematica cioè la gestione delle email le email possono diventare un problema anzi nel mio caso le email sono già un problema soprattutto quelle 500 ancora da leggere che ho come gestisco le email senza che diventino un'ossessione guarda spesso si quando si parla di equilibrio digitale ritrovare un equilibrio disintossicarsi spesso si parla subito dei social network e quindi di quanto tempo passiamo su facebook e di quanto tempo passiamo sui social network a perdere tempo in realtà dal mio punto di vista è tempo perso controllare l'email ogni 5 minuti controllare la home page di Repubblica ogni 5 minuti perché in tutti questi casi è un comportamento compulsivo nel momento in cui controlliamo l'email ogni 5 minuti in realtà salvo rari casi in cui stiamo aspettando una risposta e magari una risposta tempestiva da parte nostra può fare la differenza in tutti gli altri casi è di fatto un comportamento compulsivo nel senso che fino a qualche tempo fa mi è venuto in mente giusto qualche settimana fa noi prima della posta elettronica avevamo la posta e il postino ce la portava normalmente una volta al giorno probabilmente in qualche caso in qualche grande città magari due poi avevamo il corriere che ci portava qualcos'altro e avevamo il nostro momento quindi in cui andavamo a prendere la posta a controllarla e a rispondere il resto del tempo lavoravamo con l'email invece abbiamo avuto la grande conquista non solo di poter comunicare con chiunque in tutto il mondo in modo facile e in modo economico quindi non sono uno che è contro l'email assolutamente la considero ancora oggi un mezzo molto efficace se non il più efficace nonostante tutti i limiti di spam e altri mezzi che si sono messi a sostituirla parzialmente ma una cosa che noi abbiamo cominciato a fare e con l'avvento del Blackberry l'abbiamo trasportata sul mobile è quella di essere raggiungibili in qualsiasi momento e quindi di ricevere un'email e ricevere una notifica che è arrivata una nuova email in qualsiasi momento ma salvo casi rari diciamo l'uomo il professionista medio il lavoratore medio per quanto di alto livello manageriale non ha bisogno forse solo quelli che lavorano come trader nella finanza ma pochi altri credo hanno bisogno di ricevere un aggiornamento nuovo ogni pochi minuti quindi la prima cosa da fare è cancellare tutte le notifiche da mobile o da desktop quando vado in un'azienda da un cliente e lavoriamo insieme e vedo che nel nel riquadro in basso a destra appaiono le notifiche di Outlook mi metto subito mi prende subito male perché mi rendo conto che quella persona ha un metodo di lavoro che fa sì che la sua produttività si riduca a meno della metà perché quella persona è continuamente distratta dalle notifiche che appaiono che nel 99% dei casi sono attività che non richiedono un intervento immediato e quindi sono una distrazione e come ho detto prima le distrazioni poi fanno sì che il livello di attenzione cali e prima che riprenda passi un po' di tempo quindi quello di cancellare le notifiche è il primo passo da fare il secondo passo che consiglio quantomeno da sperimentare per una settimana Giorgio potresti importi di non controllare l'email prima delle 10 di mattina e adesso non so a che ora tu cominci a lavorare però le 10 di mattina è un orario tutto sommato ragionevole anche se dovessi cominciare a lavorare molto presto tu non controllare l'email fino alle 10 e prova a cominciare la giornata concentrandoti sull'attività principale che devi fare che può essere produrre un documento ragionare su un cliente quindi è un'attività che richiede un certo livello di concentrazione comincia da quella e non guardare la posta elettronica fallo per una settimana e poi secondo me cominci a valutare diversamente la posta elettronica e magari decidi di continuare così e di darti anche delle altre scadenze per cui dici ok io la posta non la tengo sempre aperta non la controllo in qualsiasi momento decido io quando guardarla quindi magari la guardo alle 10 a mezzogiorno e alle 3 del pomeriggio prima di andare via e non la guardo in qualsiasi momento a meno che non abbia un'esigenza particolare ti dico io in questa periodo estivo che tutto sommato è più leggero mi sono imposto di guardare alla posta scusate il gioco di parole a mezzogiorno e alle 5 del pomeriggio in maniera tale che tutto il resto del tempo io posso concentrarmi su qualcosa di più importante io ho visto che qualche d'uno mette anche la spedizione delle email a orari predefiniti cioè al posto che spedirla subito io ho visto alcuni amici che loro l'ho notato perché mi arrivano le email da loro solo alle 19 e a mezzogiorno questa è una cosa un po' strana non so se possa essere dovuta a questa pianificazione qui ecco guarda questa effettivamente è un'attività che non svolgo ma che ho sperimentato e che tutto sommato consiglio soprattutto per un certo tipo di email alcune persone diciamo il Mario Rossi che ti citavo prima che riceve le notifiche e quindi si ritiene ritiene produttivo in inglese lo definirebbero business e non business ah certo cioè il fare sempre qualcosa ma in realtà non lavorare ma fare cose che fanno più a muina come direbbero forse i napoletani di un'altra epoca il Mario Rossi di turno se tu gli iscrivi alle 10 lui ti risponde alle 10.05 e pensa di essere il lavoratore più produttivo del mondo in realtà se trova davanti a sé un altro Mario Rossi quello gli risponde dopo 5 minuti e usano le email come una chat e quindi finiscono invece magari di alzarsi il telefono e parlare due minuti finiscono per mandarsi 50 email in tre ore e pensando di essere i più produttivi e più efficienti del mondo quindi se tu hai a che fare con questo Mario Rossi il consiglio che ti do è di di non rispondere subito ma probabilmente programmare così non ti dimentichi una risposta in un orario differito fa sì che quella persona non solo non ti riempa la posta subito con un altro messaggio ma probabilmente penserà meglio a cosa scriverti la prossima volta e quantomeno non sarai inondato dai mail inutili oppure sarai andato a rompere le scatole a qualche un altro però qui qui c'è un problema adesso noi registriamo che è estate abbiamo appena passato ferragosto c'è quest'area di vacanze e qui casca un po' l'asino perché come bisogna comportarsi in questo periodo col proprio datore di lavoro perché da un lato c'è chi dice io vado in vacanza stacco tutto me ne frego dall'altro però sai che non è possibile perché io ho conosciuto datori di lavoro o comunque manager i capi che avevo sopra che gli dicevano tu sei pagato per essere disponibile anche quella volta che sei in vacanza perché non fai l'operaio in fonderia a proposito facendo un po' di polemica come adesso c'è in questi giorni su facebook ma tu sei chiamato ad avere delle responsabilità in realtà poi io mi rendo conto che si tratta anche questa di un'abitudine di avere le persone al proprio servizio sempre e comunque però è difficile avere la risposta giusta perché veramente sono diventate abitudini che sono diventate pretese ecco tu cosa consigli di fare? infatti quello che il problema che tu poni è un problema di carattere culturale quindi da un lato mi rendo conto anche vista qual è la congiuntura diciamo non bisogna essere troppo schifignosi quando si parla di lavoro dall'altro lato però è anche utile far capire al proprio capo ai propri collaboratori che gli strumenti vanno usati nel modo giusto nell'ottica di essere più produttivi e quindi nell'ottica di creare più business e lavorare meglio quindi l'obiettivo non è non guardo le notifiche e ti rispondo alle mail due volte al giorno perché il resto del tempo gioco a solitario ma lo faccio perché ho più tempo per concentrarmi per fare il lavoro vero che poi genera il fatturato quindi in questo senso quello della reperibilità è un tema attivo nel senso è giusto ed è utile essere sempre reperibili sempre connessi rispondere sempre in tempo reale oppure è meglio ogni tanto prendersi delle fasce orarie in cui uno è disconnesso pensa a qualcos'altro si rilassa è impegnato in altre attività mentali studi scientifici che non ho fatto io che hanno fatto varie università dicono che pensare ad altro ogni tanto fa bene e staccare dal lavoro ogni tanto fa bene quindi non solo fa bene nel momento in cui ti prendi una settimana di ferie e stai al mare e non stai in ufficio o in macchina tra un cliente e l'altro ma è vero anche rispetto alla gestione dell'orario di lavoro per cui Volkswagen che non è l'ultima delle aziende già qualche anno fa fece scalpore perché decise che alle 10 di sera che non è neanche un orario diciamo folle se guardiamo da un certo punto di vista alle 10 di sera aveva deciso di staccare i server del Blackberry per impedire di mandare e ricevere messaggi nella rete aziendale quindi le 10 di sera non mi sembra essere un eretico digitale se dico che è un orario in cui uno non dovrebbe lavorare quindi in questo senso certo si tratta di ragionare con le persone e trovare la soluzione migliore insieme per chi invece è il boss di se stesso questo non significa che sia più facile perché spesso è anche più difficile perché se io sono l'unico che porta il fatturato sono ancora più pressato nell'essere sempre efficiente e rispondere a tutti in qualsiasi momento quello che io consiglio di fare anche qua siamo in periodo che ci può essere più facile sperimentare provate a staccare completamente da una certa ora tipo per me ormai è diventato fondamentale un'abitudine anche questa che ho messo ho sperimentato e ho attuato e sto attuando un po' di tempo è quella di non guardare il telefono e quindi non rispondere all'email non rispondere a nessun messaggio dall'ora di cena in poi quindi io quando ho staccato che per qualcuno può essere anche quando va via dall'ufficio non lo so ognuno chiaramente ha un ritmo di lavoro diverso però io ho il mio momento in che non è fisso scolpito sulla pietra un giorno può essere alle 6 e mezza un giorno può essere alle 8 di sera in cui dico ok qua ho messo un punto adesso da qui in avanti io penso ad altro e diventa un modo anche per rilassarsi per dormire meglio e quindi la mattina svegliarsi meglio e riprendere da dove eravamo rimasti senza nessuno stress e vi assicuro che nel momento in cui voi e anche tu Giorgio sperimenti esperienze di questo tipo ti rendi conto che la tua vita cambia per quanto un ascoltatore ascoltandoci in questo momento può pensare che siano tutto sommato suggerimenti banali la nostra vita è fatta di tanti piccoli momenti che ripetuti nel tempo fanno la differenza e questi che vi sto accennando sono alcuni di questi Luca ci fermiamo un attimo per dare spazio allo sponsor poi torniamo subito qui un SEO audit ti permette di avere uno strumento chiaro con cui valutare e programmare quale attività intraprendere per migliorare il tuo business online attraverso l'ottimizzazione sui motori di ricerca se vuoi costruire la crescita della tua presenza online su basi solide valutare in maniera imparziale il lavoro fatto finora e far partire azioni di marketing online davvero efficaci capaci finalmente di portare risultati che hai sempre desiderato allora quello che serve al tuo sito è un SEO audit un SEO audit ti permette di conoscere come migliorare velocemente e mantenere nel tempo i risultati già raggiunti vuoi saperne di più visita merita punto biz barra SEO audit per migliorare le tue performance già da oggi tu hai perfettamente ragione io adesso non so vorrei fare una battuta ma non so quanto è una battuta o quanto è triste realtà dire che alla fine poi le aziende che insistono per reperire tutti al telefono via email in continuazione così durante l'estate sono poi quelle che fanno tre settimane di chiusura ad agosto dove dovrebbe essere reperibile per dire purtroppo che tutto è rimandato a settembre ad ogni modo quello che ci hai suggerito è verissimo io lo vedo anche avendo due bambini piccoli quando giochi con loro e ti vedono che giochi col cellulare quindi che non li badi al cento per cento io ho mio figlio piccolo che mi dice babbo sveglia come se io dormissi in realtà io non dormo guardo il cellulare faccio le mie cose ma lui si accorge bene che la relazione è entrata in un torpore totale bene a questo punto consigliaci qualche strumento per diciamo vincere la nostra lotta verso l'equilibrio digitale perché ci sarà pure qualcosa che ci aiuta oltre la nostra volontà guarda il momento il momento per cominciare passa dall'acquisizione della consapevolezza quindi essere consapevoli di quali sono le nostre abitudini e diventa il primo passo per cambiarle questo vale per per qualsiasi tipo di abitudine può essere rispetto a qualsiasi eccesso dal mangiare troppo al al bere troppo o avere altri comportamenti non salutari nel momento in cui noi ci rendiamo conto del tempo che passiamo su certe piattaforme su come impieghiamo la nostra giornata quello è il primo passo per dire ok qua c'è qualcosa che non va e facciamo qualcosa se non siamo consapevoli diciamo sì ma chissà quanto tempo passerò su facebook poco o quante volte sarò interrotto ogni giorno no è trascurabile dai tutto sommato non ho un problema per essere sicuri il modo migliore è per esempio utilizzare alcune applicazioni che ci permettono di misurare esattamente il tempo che passiamo online in che modo con quale efficienza su quali siti quindi per il pc mac e anche android c'è un'applicazione molto carina che si chiama rescue time che si installa ed c'è anche una estensione per chrome quindi ogni settimana ci dice ok Luca hai passato sul tuo computer e sul tuo smartphone 50 ore di queste 50 ore hai avuto un livello medio di produttività del 55% che attribuisce in base a come sono classificati i siti che frequentiamo classificazioni che si possono modificare e mi dice poi categoria per categoria quanto tempo ho passato per ogni sito quindi io vedo che magari ho passato il 30% su strumenti di produttività il 20% sui social network vado a vedere magari ho passato 15 ore su facebook 15 ore su facebook significa che ci ho passato due ore al giorno quindi posso fare qualcosa per ridurre questo tempo magari ritagliandomi mezz'ora per leggere quel libro che non ho mai tempo di leggere o per fare quell'attività che magari può essere anche stare con mio figlio mezz'ora in più se so quanto tempo passo su quali siti posso intervenire se non lo so non lo posso fare su android c'è un'altra applicazione molto molto carina che si chiama quality time che ti dice anche quante volte hai sbloccato il telefono in un giorno quindi quello è un altro obiettivo da ridurre per cui io sono passato da diciamo senza controllarmi a sbloccare il telefono più di 100 volte al giorno e c'è chi dice che la media di un utente su un annettone è supera anche 120 volte al giorno a 50 quindi questo significa quando io prendo il telefono in mano faccio quelle cose che devo fare e poi il telefono quando lavoro a casa perché non ho un ufficio lavoro da casa il telefono non lo tengo a fianco a me lo metto in un'altra stanza e così non sono tentato di oh andiamo a vedere chi ha commentato quella cosa su instagram o magari qualcuno su whatsapp su un gruppo dei genitori mi distrae e vada a vedere poi dopo gli rispondo no se stai in un'altra stanza io faccio magari una pausa a un certo punto e quando faccio la pausa mi bevo un bicchiere d'acqua mi guardo le notifiche dei social network poi lo rimetto lì e ciao per iphone l'app invece che ha le stesse funzioni si chiama moment e provatele perché vi rendono sicuramente la vita più semplice nel momento in cui sapete dove intervenire queste le le scarico senz'altro poi gli ascoltatori troveranno tutti i link a queste app nello show notes in modo da non perdere tempo non perdersi a fermarsi per strada con la macchina a prendere nota gli facciamo trovare tutto a posto mi viene in mente questo senza voler essere troppo cinici perché magari noi oggi abbiamo scherzato abbiamo detto che i primi siamo noi ad avere questi problemi poi magari chiedi in giro nessuno ce l'ha tutti si sanno dominare esattamente come ti rispondono quelli che hanno il problema dell'alcol smetto quando voglio io come tutti i dipendenti bene però questi problemi ci sono le persone li hanno e quindi mi sembra che ci possa essere uno spazio del business diciamo uno spazio per curarli per creare una consapevolezza diversa non solo quelle app magari avranno anche una parte a pagamento non lo so però mi sembra che ridare stabilità delle persone può essere anche un business un business lucrativo interessante mi sbaglio oppure non ti sbagli non ti sbagli adesso ti cito giusto un riferimento per le tue note della puntata Alessio Carciofi Alessio Carciofi è anche lui un consulente di web marketing che si è sensibilizzato su questo tema dal mondo del turismo sta cominciando a proporre alle aziende dei contenuti di carattere formativo per sensibilizzarle dal loro interno e quindi trarne dei vantaggi sul piano chiaramente della produttività e dell'efficienza quindi il business come per ogni bisogno che va soddisfatto sta nascendo siamo ancora a un livello di consapevolezza sul mercato italiano relativamente basso come puoi immaginare anche per altre tendenze però credo sia questo un tema che sul piano dell'efficienza aziendale diventerà presto molto caldo perché i margini per competere si riducono sempre di più e lavorare un'ora in più al giorno lavorando in realtà un'ora in meno può rendere le persone più felici e le aziende più ricche quindi perché no moltissimo hai ragione poi tra l'altro non è neanche male questa ridai competitività alle aziende gli riporti a casa del valore di lavoro che comunque pagano no è una cosa assolutamente utile e interessante ascolta Luca il tempo a nostra disposizione si è esaurito io sono sicuro che nella testa degli ascoltatori ci saranno un sacco di domande dove possono trovarti come possono raggiungerci raggiungerti come possono continuare a stare in contatto con te ci dici la tua casa online dove si trova guarda avendo cominciato come blogger molto tempo fa ho ereditato nel tempo due domini quello personale lucaconti.it e il mio blog invece più legato ai temi tecnologici è pandemia.info sul tema dell'equilibrio digitale condivido notizie e link su twitter dove mi trovate con un utente pandemia e uso l'hashtag equilibrio digitale quindi manteniamoci in contatto in questo modo benissimo grazie Luca per essere stato nostro ospite grazie a te ciao 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 a presto bene siamo arrivati al termine anche di questa puntata in cui abbiamo parlato di equilibrio digitale grazie per essere stati con Luca e con me spero sia stato un episodio ricco di spunti utili per farvi riprendere il controllo dei vostri device se avete voglia di farmi sapere la vostra opinione fare una domanda sull'argomento di oggi o lasciare semplicemente un saluto veloce potete usare i commenti alla pagina www.merita.biz barra 4 1 tutti gli appunti e i link citati da Luca durante lo show le app i libri eccetera li trovate già lì che vi aspettano se hai apprezzato il podcast o hai voglia di lasciare un feedback sulla trasmissione beh fallo su iTunes perché noi abbiamo sempre aperto il nostro challenge vorremmo arrivare a 100 recensioni per Natale e il tempo comincia a correre se vuoi darci una mano se ti è piaciuto l'impegno che abbiamo avuto durante quest'anno nel podcast beh premiaci con una recensione su iTunes mentre per tutti gli altri che vogliono condividere con amici i contenuti di questo podcast c'è la pagina www.merita.biz barra love l-o-v-e dove trovate tutte le istruzioni per lasciare suggerimenti e per far conoscere ad altri i contenuti che avete ascoltato bene è davvero tutto per oggi io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast ciao